Buongiorno coccodrilli, è lui o non è lui? Certo che è lui! L'ho schiso, mamma mia che schisata, ha fatto spu... Sì, sì, come schisa... Oggi è un mercoledì d'agosto, già abbastanza caldo... Vabbè, sta pieno... Mamma mia, era da tanto che non lo facevo, ma qua sta pieno forte... Cioè, guardate quel cane da figa, è subito pronto... Vedete come gli parlo in tedesco, come mi ascolta? Quando uno sa le lingue, ha fatto il linguistico, sa falonda... Anche perché falonda è difficile di essere una cosa provata e riprovata... Io ho fatto sei anni di linguistico... Per l'estate l'onda, niente... In spiaggia, tu vai là e fai l'onda... E arrivano tutte... E tutte vogliono cominciare con te, così... Ciò fa anche il trapano... Sei anni di linguistico, raga, sei... Ma c'è il sacchio... Ma c'è il sacchio... Ma c'è il sacchio... ah ma c'è il saggio c'è il saggio di sto cazzo ma buongiorno buongiorno sta cazzo no top proprio quando ti svegli così quando ti svegli così stai al top senti come senti un incillato dietro un po ah che struttura dai un bacetto dai dai un bacetto con un pennello va via con queste ciucciacce ma non ti piace il pennellino? annaggia ti piace il pennellino? ma non mi piace niente a me che ti piace? niente che te ne va lì che ti piace? la surca oh fa fa ma che stai fa? si c'hai due ore che stai di lì fa! fa! comunque ho scelto chi verrà a pranzo qui da noi sono molto felice adesso stiamo capendo quando riuscirà a farlo perché sarà un po' in agosto molto bello intenso però è bene così oggi solo per oggi chi acquista su www.carlettolife.com canottiere qualsiasi roba mandiamo un video saluto quindi fate swipe va via! 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 non era quella? non è facile così? va via! va via! signore incantino no? mi sbaglierò io vediamo se la Gianna si accende vediamo un po' eccoci qua questa mattina perché sono vestito così perché c'è lui perché c'è questo macchinario body tech oggi body tech per tutte le informazioni su body tech flexor lab e Simone scrivete a lui pronti? è passato quasi un mese hey guys dai stay up un pochino little b little b up no così dai don't worry eh it's pasto è passato non ti preoccupare dai si era solo l'inglese i ragazzi non sono ripresi dai turn sun turn sun come cazzo si dice dai su una partita only football dai guarda chi ha il porta al pane a casa ecco vedi chi ha il porta al pane e tu solo tu magni tu magni magna bello vedi ma sai che c'era c'era una fonte in montagna si sai come faceva faccia così la fonte la fonte guarda gli viene da rire sotto sotto guarda no no rido per niente mi cazzo guarda se hai bagnato tutto guarda gli vedi hai sentito una bestia in mio ciavolante no nè vero hai sentito eh nè vero rischia la scomunica fai una benedizione rapida rischia la scomunica tu rischi la scomunica e sei satana da questo qua metto la filipecchetta a me già perché veni qui a lì a lì a lì a lì niente benedizione a lì niente benedizione perché gli riuscite le campane senti come suona il prete dai giù dai vai vai la sinfonia questa è mi sembra uno in fa in fa minore fa fa dai più forte vedi vai vai suona più forte via dai io fra dai dai giù le campane del paese giù arzughe che arzughe oh un cazzo nooo anche oggi 50.000 grammi di pasta tutta bella nevicata che si è rotto eh dai chiamati qui lo sto scocci dove ma fai giù perché sennò me lo scocci provatene oh oh c'è da venire poi i danni e se la venire come io va tirare la vite è da girare verso di qua no dove mannaggia che rispolto ma fa questa mia l'hai tirata o no giro 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 ancora ma 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 ho fatto ho fatto cinque strizzata dalle bretelline ma ma che cazzo è davvero scomodo ma che cazzo ma che cazzo ma che dormi ma che dormi ma che dormi eccola sì già allora eccola qua stiamo a sistema tutto l'ambaradà fiorellini messi eccola sono venuto qua per controllare una cosa per capire se fa sta fa per bene come si sta comporta fa male va bene però te volevamo dire ti ci hanno mai mandato quel paese sapessi quanta gente che ci sta il primo cittadino e amico mio tu digli che te ci ho mandato io e fa e fa e fa fa e fa e fa fa dove fonti a f***** oooh adesso vi riconosco teatro all'aperto gratuito tutti i giorni aperto sempre per voi eccolo qua una panchina una panchina un po dei signori e uno stronzo e si e uno stronzetto è uno stronzo spaziale è uno stronzo atomico spaziale con S grossa quanto è quella della spigatola vabbè, quant'è grossa con la gilardetti sullo spazio guarda guarda che cincilla il mister col cappello signori si nasce eccolo il mister vediamo un po' ti dico, ieri sera sei stato lo scrocco dal meglio amico tuo giardino mister mettiamo questo cappello o no vediamo la visura ok i cappelli eccole il cappello con la S della spiga d'oro il stronzo della spiga d'oro in giro con la macchina no cazzarone cazzarone sogna a trovare anche un personaggio a questo signore qua cominciamo a sgassare e c'è un amico mio c'è un mal di testa troppo bello quando vado in giro con questa macchina e tutti i bambini i ragazzini che guardano che mi riconoscono è fighissimo proprio fa effetto parecchio bene bene così sono contento così voglio dire una cosa per tutti gli amici di Salerno io questo weekend sarò a Salerno e porterò la mamma perché porto tre giorni la mamma al mare andiamo lì che abbiamo amici quindi ecco dopo mi dite sempre mi dice Mario che sei boom 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 no boom boom bam me lo dite però qualcuno dice come mai non ci hai detto che vieni qua adesso lo sapete sto a Salerno parto domani pomeriggio quindi se vedrete una macchina pazza in giro è la mia ma stasera chi c'è a cena? stasera a cena c'è un grosso prelato del Vaticano è vero? si si prelato o pelato? un grosso prelato che pian piano si pela è un signore che non c'ha più il pelo c'è un signore che ha fatto come le donne si è fatto il pelo sui bracci come mai ti sia fatto il pelo non ce l'ha più come mai ha fatto il pelo sui bracci? ce l'ha più legge ce l'ha più ha fatto il pelo guarda che me fa mi ha macchiatto qua io guarda che paracaro guarda lei tutta buffo vestita qua stasera vieni la puttana stasera ferma assassino ferma no lui si vuole la puttana stasera vieni come si è zittato il coccodrillo come fetta o no hai sagerato hai sagerato questo anche piatto si mangia guarda che coccodrillo guarda guarda un po' vieni al prete proprio con la chiesa aperta l'ha lanciata è partita la bestia è partita nonna maria è entrata dentro la chiesa così sta nonna maria nonna così è entrata nonna è entrata c'era la porta aperta lui l'ha lanciata questa è andata subito dentro guarda che le pedi due a specchio c'è specchio riflesso c'è specchio riflesso c'è specchio riflesso ah ok c'è quella della chiesa c'è